E' già viste! Bene, qualche meraviglia, siete bellissimi già visti da qui, magari non tutti, adesso poi però giustamente la piazza si snoda. Allora, uno dei modi con cui vogliamo sempre iniziare questi spettacoli è provare gli applausi che teoricamente potrebbero avvenire durante il corso dello spettacolo. Vi va di farlo? Con questo entusiasmo, ragazzi? Sì o no? C'è un viso! E' senza cazzarsi. Allora, proviamo un applauso, sono applausi a comando, però attenzione, proviamo un applauso tipo lo spettacolo, mi sta piacendo, ma insomma, neanche poi più di tanto. Un applauso di cortesia, quelli freddi da congresso che si fanno per forza. E questo è andato preoccupantemente bene. Proviamo un applauso tipo lo spettacolo, mi sta piacendo. Abbastanza, abbastanza. E' uguale a quello di prima, ragazzi. Serata durissima, ho già capito. Adesso lo spettacolo è una figata. A stand in conversation by Vieste! No, avevo tutti bravissimi, molto bravi, ma attenzione, vi frego subito il più difficile, applauso Mediaset. C'è un cacchio da ridere. Allora, l'applauso Mediaset, essendo televisivo, è quello che per esigenze televisive esplode in un applauso fragoroso e poi si blocca di colpo. Ok? Aspetta. Quindi, concentrati, occhi a me. 3, 2, 1. Porca... No, scusate. 3, 2, 1. 2, 1. Ragazzi, neanche ad arco le viene così bene. Siete il pubblico ideale. Scegliete adesso l'applauso che volete. Io suggerisco la stand in conversation perché facciamo entrare le due etuale. Le vedete in questa serata Cristina Chiappotto e Serena Garritta! Buonasera, Sovieste! Buonasera a tutti, benvenuti! E benvenuti al Comedy Tour Risollevante! Bene, perfetto, ragazzi, adesso che ci siamo tutti, possiamo iniziare la nostra trasmissione. Per cui direi... Scusa, scusamana. Nostra di che? E mia, tu guarda la cavallona qua. No, ma guarda che non siamo nella tua trasmissione, Alice Aleito. Vedi la santa seminuda nei baraggi? E purtroppo no. No, però se volete spogliarvi voi, ragazze, cioè, secondo me... No, basta chiedere, perché io credo di non avere le doti della santa, eh, Felicia. Guarda, se è vero quello che ho sentito in giro, è guardando da qua neanche di più di doti della santa. No, se ne intendeva che la trasmissione è nostra e tu sia nostro servizio. Quindi facciamo una roba tipo Sadomaso... Vabbè, non esageriamo. Sì, no, ma c'è qualcosa di Sadomaso. Che mi dispiace. Da ora in poi dovrai chiamarci le mie padrone. Oh! Veramente? Sì, mi piace. Mi fa che mi piace. Va bene, cosa devo fare? Le mie padrone. Innanzitutto devi ballare la sigla. No, dai tutto ma non ballare. C'è caldo, si suda. Vi invianco casa. No. Vi faccio i piedi. No. Vi raso la iola. Balla schiamo! Come ti balla? No, dai tutto ma non c'è caldo. fam! helps usance! ? foto�